Nel centro Digital Industry di cui faccio parte ci occupiamo di tecnologie informatiche e di intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza e la produttività delle imprese ma anche la qualità di vita degli operatori. L'unità che dirigo si occupa di pianificazione e schedulazione automatica che è una tecnologia avvolta all'automazione e all'ottimizzazione di processi industriali e robotici. Sostanzialmente lavoriamo a tecniche che supportino le decisioni sulla base di una rappresentazione matematica dei possibili comportamenti di un sistema quale può essere ad esempio una fabbrica oppure un robot. Tra tutte le decisioni possibili cerchiamo quelle che raggiungano un determinato obiettivo come ad esempio la produzione di uno specifico modello di prodotto oppure ottimizzino una certa metrica come per esempio il consumo di energia. In quest'ambito ho recentemente vinto un prestigioso finanziamento del Consiglio Europeo delle Ricerche per lo sviluppo di nuove tecniche di pianificazione che siano basate sull'integrazione di logica e machine learning. La logica è utilizzata per fornire garanzie di correttezza e affidabilità mentre il machine learning serve a rendere il sistema adattivo e performante. L'obiettivo è la creazione di soluzioni che possano essere utilizzate in pratica per aiutare il processo decisionale e l'automazione in scenari reali su orizzonti di tempo più lunghi di quanto sia possibile oggi permettendo così un sostanziale risparmio di risorse e un conseguente contenimento dei costi. Queste tecnologie che sviluppiamo in FBK non sono solo studi teorici, abbiamo una lunga tradizione di collaborazioni con grandi e piccole aziende sia locali che nazionali ed europee per portare i nostri risultati di ricerca nella pratica quotidiana e nei sistemi aziendali.